ciao a tutti lupetti e lupette benvenuti in questo nuovo video come vedete ragazzi non siamo a casa nostra perché siamo in un hotel qua in piemonte e infatti ragazzi oggi realizzeremo il sogno di yuko portandoli in un posto dove ci sono tantissimi aschi si ragazzi e li faremo trainare per la prima volta una slitta ma vi rendete conto yuko trainerà una slitta che è come per i lupetti sarà bellissimo ragazzi ma yuko ancora non sa niente di tutto ciò perché sta dormendo e neanche si è accorto che siamo sulla neve praticamente quindi adesso andiamo a svegliarlo così possiamo portarlo in questo bellissimo posto andiamo ma buongiorno yuko dai svegliato amore buongiorno comunque sta troppo bene qua sul letto non chiedetemi di alzarmi ma lo sai oggi si faremo una bellissima sorpresa ehi aspetta che cosa ha detto sorpresa di che parli umana non ti posso rivelare troppo ti dico soltanto che andremo sulla neve che cosa sulla neve amore capito no è impossibile ho capito sicuramente male sono troppo stanco ma come sei stanco yuko ma che stai dicendo ma oggi vi farà una bellissima avventura amore sei pronta amore andiamo ma quindi stai dicendo sul serio oggi andremo sulla neve non ci credo neve sto arrivando e poi ho capito non me lo stavo sognando dall'auto riuscivo a vedere i monti e c'era neve ovunque quanto mi era mancato giuttare l'aria fresca e avere il sole sul musino amati boschi sto arrivando non vedo l'ora di scendere dall'auto a tuffarmi sulla neve io come hai visto dove siamo cioè si è accorta che c'è la neve ma quindi siamo arrivati scendiamo amore sì patato sì scendiamo quando dicono che gli aschi parlano ragazzi finalmente è arrivato il momento che stavo aspettando che bello neve mi sei mancata tantissimo siamo finalmente arrivati cioè sono esattamente laggiù da pochi passi e ci saremo yuko ancora non si è accorto di niente ma guarda quanti aschi ci sono bellissimo no raga è stupendo dai su andiamo corriamo aspettatemi ma qui c'è un odore strano nell'aria mi sembra familiare che è stato ad ululare cioè yuko sarà felicissimo adesso ma già puntati vuole andare da loro ma quanti sono e poi cos'è questa cosa strana e quella cosa serve e tu chi sei anzi voi chi siede non capisco ma perché stanno correndo dove stanno andando tutti quanti ehi amici aspettatemi voglio andare anch'io sono sempre stato innamorato dei cani da slitta in particolare del siberianaschi sembra che ci siano dei geni dentro al siberianaschi che gli fanno questa voglia di tirare le slitte ok che non a prescindere sì è vero è successo proprio così ok allora parliamo un po di materiale parliamo di materiale perché poi in slitta capirete che il materiale è importante il materiale consiste in un collare fisso cioè regolabile ovviamente l'apri e chiudi ma non deve avere le clip di plastica perché la plastica fatisce un casino il freddo l'imbrago non si mette davanti qualcuno prova a metterlo davanti al cane o di fianco no salite sul cane poi se la deve andare a finire la testa evidentemente devo iniziare a infilare tutto da qui ok e infilo la testa quindi tiro sulla zampa a pacchetto e la faccio passare stessa cosa l'altra ok e adesso cosa sta facendo ah le voleva dare un bacino che dolce ok adesso tocca a me vediamo se la mia mano ha capito cos'è che dovevo fare ah già devo alzare le zampette prima una poi l'altra bene sono pronto ok grazie allora ragazzi questa è la slitta che andremo a guidare la slitta manubrio due fattini questa cosa nera che si chiama tappeto e questo che è il treno principale la posizione corretta da tenere in slitta è due mani sempre ben salde sul manubrio i piedi all'altezza del tappeto ci sono tre regole fondamentali da seguire affinché l'escursione si svolga in maniera bella e divertente per voi è piacevole per i cani la prima regola che dobbiamo guardare sempre davanti a noi perché come vedete alle slitte ci è attaccata una linea di traino qui ci saranno attaccati i cani guardando avanti controllo che la linea sia in tensione se questa linea non è in tensione significa che la vostra slitta sta scivolando più in fretta di quanto i cani stiano correndo per cui dobbiamo intervenire andremo a rallentare col tappeto seconda regola è assolutamente vietato sorpassarsi o affiancarsi terza regola bisogna sempre mantenere una distanza di sicurezza di 23 metri dalla slitta che ci precede in questa pista andremo ad affrontare salite e discese e tratti pianeggianti non esagerate ad utilizzare il tappeto perché ricordatevi che i cani si divertono a tirare ok è la loro più grande passione più voi rallentate e li frenate più facilmente li stufate quindi si gestire la velocità e controllarla in modo da non cadere ma lasciate anche correre e divertirsi eccola sta tornando morti ma allora cosa ti hanno spiegato allora mi hanno un po spiegato come si fa a comandare la slitta mi hanno anche detto che noi che saremo sopra la slitta ci chiameremo masher quindi saremo masher per un giorno ragazzi mentre yuko e gli altri aschi ci treneranno che sarà veramente meraviglioso sarà bellissimo ci sono delle curve come si fanno le curve si fanno con il manubrio e poi ci hanno anche detto come si fa appunto a comandare la slitta perché ovviamente ci sono delle cose da fare perché non si comanda soltanto con i piedi quindi frenandola proprio pensando un pedale ma bisogna anche dare dei comandi vocali agli aschi il primo comando che utilizziamo lo utilizziamo per partire ed è ok sono deciso ed ho una spinta alla slitta quando vado ad utilizzare il tappetino per rallentare il comando che darò sarà easy così non serve i cani non frenano se utilizzo invece il freno il comando è lo stesso dei cavalli ed è che ho capito quindi sono solo questi tre comandi allora è facile scusa si beh dovrebbe essere semplice quindi te la caverai benissimo perché adesso tocca a me per primo si prima inizi te aiuto adesso andremo a preparare i cani e poi partiamo yuko questa slitta icey questa slitta flash quella dopo raga stiamo per salire sulla slitta con yuko guardate ci sono tutti gli aschi che sono già pronti in posizione alle loro slitte è un'esperienza fantastica per yuko che finalmente dimostrerà di essere un siberianaski cioè proverà proprio a stare nel suo abito che è la neve vediamo se ce la fa perché comunque è sempre stato sul divano lui sul letto al caldo la neve l'ha vista però non ha mai tenuto una slitta quindi insomma sono due cose un po diverse e quindi adesso ci proveremo e vedremo un po come va si che bello andiamo non vedo l'ora quindi tocca a me sei pronto amore sii beh che domande è abbio ma hai visto che ci sono tanti cani come te sei amore si che bello sei pronta a salire sulla slitta amore si umana andiamo in slitta dai non perdiamo tempo ci sono tutti i miei amici che mi stanno aspettando sei pronto io lo prendo come un sì questo mi sono mai aspettato questo momento da tutta la sua vita finalmente dopo cinque anni proverai che cosa si prova a tornare una slitta io si che bello sarò come balto è vero come torna preferito amore diventerai balto per un giorno stanno abbaiando perché non vedono l'ora di partire siete pronti ad andare amori guarda che bello come scotinziano ciao ripetiti attacchiamo Yuko alla sua slitta vieni fuori sto per salire sulla slitta siiii ooooo cioè speravo di riuscire a ricordarmi tutti i comandi perché mi hanno detto che otto persone su dieci cadano noi dobbiamo sempre rimanere dal lato della montagna ok se no verso valle cadiamo si può cadere in slitta yes si può cadere solo di lato di lato è importante per non farsi male proteggere la spalla quindi andrò a cadere in questo modo e perché sei proprio te quella persona che cadrà è fatima sicuramente tranquillo umana ti proteggerò io Yuko è pronto a correre Yuko sta per partire tocca a me pronti ok posso farcela in fondo basta stare tranquilli il primo viaggio di Yuko è una bella giornata non c'è motivo di essere agitati spero partiamo 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 ok eccolo eccolo vai Yuko ehi 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 piano non ci credo sto trenando una slitta veramente è bellissimo e così io e Yuko insieme a tantissime altre slitte di Aski siamo partiti ad esplorare il bosco gli altri cani hanno fatto questo per tutta la loro vita quindi erano veramente bravissimi mentre per Yuko beh era la prima volta ma era davvero felicissimo di correre insieme a loro per quanto riguarda me invece beh cercavo di rimanere in bilico sulla slitta sarebbe stato già molto riuscirci sono sulla slitta ragazzi adesso per farli prendere velocità devo dirgli ok per fermarli invece easy easy ed è rallentano adesso che figata ok 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 vai go 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 uuuu che ragazzi è bellissimo è tipo stramica difficile aiuto ma poi ad un certo punto abbiamo trovato una salita rapidissima e sono quasi caduta dalla slitta e ho cercato così di spingerla per aiutare gli Aski a riprendere la corsa ce l'avevamo fatta ma Yuko era un po' preoccupato molto bene amore ma che succede perchè si sono fermati tutti dai amici non lamentatevi adesso ripartiamo ok ok stiamo andando stiamo andando bellissimo aiuto vai Yuko vai amore vai amore vai 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 Yuko uuuu 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 ok adesso mi devo stargliere tutta sulla destra perchè c'è una curva sulla destra ce la possiamo fare ce la possiamo fare aiuto uuuu uuuu e sono caduta sono caduta sono caduta beh a parte qualche curva che ho preso un po' male grazie a Yuko e i suoi compagni di viaggio eravamo quasi tornati a casa sane e salvi anche se poi oh oh raga oh raga 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 aiuto 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 ok eh già sono caduta ecco martii ciao padroncino guarda come sono bravo vai Yuko eravamo a pochi passi dalla meta sarebbe bastato zampettare un po' sulla neve per riuscire a portare la mia umana in salvo all'arrivo ormai ero diventato un vero aschi anche io niente e nessuno mi avrebbe fermato sentivo il cuoricino battere a mille le mie zampe si muovevano da sole veloci come il vento ed eccoci qui ce l'avevamo fatta ero davvero riuscito a trenare una slitta ancora non ci credo è stato davvero emozionante lo rifacciamo ma guarda che vi ho visto eh siete andati velocissimi è andata benissimo Yuko è riuscito a fare tutte le curve gigantesche si ha fatto le discese e le salite è stato bravissimo grazie umana beh dai in fondo sei stata brava anche tu su devo ammetterlo comunque adesso basta con le chiacchiere voglio farlo di nuovo dai umana vieni con me tocca a te adesso amore lo rifai con Giuse eh Chiara tocca a me si vai Giuse siamo tutti con te ecco la slitta dove c'è anche Yuko questi sono i suoi amichetti davanti qua c'è l'altra sua amichetta e qua c'è Yuko si amore sei dove felice amore? si non vedo l'ora di correre ok ciao ciao ci vediamo dopo vai Yuko corri 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 Yuko no vabbè raga ma è bravissimo ok raga ci siamo fermati perché c'è un problemino al slit dietro ma Yukin è qui buono che aspetto di correre vero Yuko? mi riposo un pochino e poi ripartiamo vai Yuko corri e così siamo ripartiti tutte le altre slitte erano dietro di noi e proprio come un vero branco stavamo arrivando tutti insieme alla meta vai Yuko vai e così infatti ha portato in salvo anche il mio padroncino vai Yuko 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 che fatica è stancante eh mi so che bravo anche te amore ma certo guarda dai bacini amore sei che stai tutti bravi ma che bravi dai bacino anche a lei amore guarda la patata ah già amore ti sei divertita amore si che ti sei divertita quando ci fermavamo perché alcuni andavano lenti e dovevamo rallentare cioè Yuko si arrabbiamo perché voleva correre è certo ma lui non si stanca mai lo sai guardalo ma sei vero viso amore ma sei troppo bravo amore bacino? si che bravo ma ciao amore guarda è identica a Yuko Yuko ha trovato la fidanzatina sulla leve amore beh in effetti è molto carina adesso però vado un po' a riposarmi inizio ad essere un po' stanco quindi com'è stato Yuko oggi? diciamo un po' è stato bravissimo bravi la verità in slitta 10 più oh 10 più Yuko hai sentito amore ma grazie e quindi alla fine di questa giornata possiamo dire che è diventato un cane da slitta un aschi vero un vero cane da slitta un siberian aschi vero grazie per avermi insegnato come avete visto ragazzi Yuko è diventato un vero rupetto adesso potrà trainare tutte le slitte nel mondo chissà dove le porteremo nei prossimi mesi magari in Finlandia nella casa di Babbo Natale al Polo Nord chi lo sa? ma come al Polo Nord? siiii se il video vi è piaciuto ragazzi lasciate un bel like e iscrivetevi al nostro canale così non vi perderete nessuna delle nostre prossime avventure perchè faremo altri viaggi assurdi insieme a Yukino ciao lupetti caro diario è stata proprio una bellissima giornata ho incontrato anche un sacco di nuovi amici yaski che erano proprio identici a me e che mi hanno insegnato come trainare una slitta ma poi è successa una cosa davvero emozionante ed inaspettata ma questa è un'altra storia ve la racconterò nel prossimo video ehi ma stai parlando di me? ehi